Fu lui, non ancora ventenne, a sparare nella notte del 20 agosto del 1991, tre colpi di pistola calibro 7,65 contro l'appuntato dei carabinieri Renato Lio, che lo aveva fermato per un controllo al vive Russomanno di Soverato. Per quell'omicidio Massimiliano Sestito, già allora considerato un giovane boss, è stato condannato e sta scontando la sua pena in carcere e fino ad oggi dal carcere ha guidato l'andrina di Gagliato, portata alla luce dalle indagini dei carabinieri del reparto operativo del comando provinciale di Catanzaro, guidati dal tenente colonnello Alceo Greco, e dei militari della compagnia di Soverato al comando del tenente Gerardo De Siena, coordinate dalla procura distrettuale antimafia di Catanzaro, indagini che su richiesta del sostituto procuratore Vincenzo Capomolla hanno portato il GIP di Catanzaro Giovanna Gioia a spiccare tre ordinanze di custodia cautelare nei confronti del 45enne Massimiliano Sestito, del 35enne Cosimo Zaffino e del 48enne Pietro Catanzariti, nell'ambito dell'indagine Showdown 3, che nello stesso nome in codice richiama i precedenti procedimenti Showdown 1 e 2, già arrivati a sentenze che hanno ottenuto l'importante risultato di riconoscere l'esistenza di una cosca Soverato, che prima era ritenuto un territorio esente da infiltrazioni indranghetistiche, come ha rimarcato in conferenza stampa il procuratore aggiunto Vincenzo Luberto. Le indagini hanno invece ricostruito le dinamiche criminali sviluppate dopo l'omicidio di Carmelo Novella, avvenuto nel 2008 nel Milanese, da cui è nato uno scontro sanguinosissimo tra le due componenti dell'andrangheta Soveratese, durato tre anni. Da un lato i Todaro, dall'altro i Sia, Procopio e Tripodi, nel mezzo una serie di delitti cruenti per bloccare l'emancipazione dell'andrina dei Gallace Novella, operanti nel basso Ionio Catanzarese. Le ultime indagini, come ha spiegato il tenente colonnello greco, sono la prova della perseveranza di procure e forze dell'ordine, che non hanno abbandonato le indagini sul territorio dopo aver portato a termine importanti operazioni, per evitare che potessero risorgere fenomeni indranghetistici. I tre arrestati sono accusati di associazione mafiosa. Al vertice dell'andrina di Gagliato era appunto Massimiliano Sestito, che la gestiva dal carcere per il tramite del fratello Davide, mentre Cosimo Zaffino e Pietro Catanzariti sono considerati dagli inquirenti bracci operativi, con particolare riferimento all'attività estorsiva e intimidatoria del gruppo.